Siamo all'inizio del campionato, abbiamo affrontato due grandi del campionato perché Civitanova e Verona fanno parte delle grandi di questo campionato sicuramente a Ravenna potevamo portare a casa la vittoria, peccato però siamo solo all'inizio della stagione, adesso affronteremo Modena domenica, mercoledì Trento quindi ancora il nostro tour de force contro le grandi non è finito però l'importante è che noi lavoriamo bene per poi arrivare nelle partite dove bisogna vincere e far punti in modo forte e deciso Ci vuol dire che possiamo giocare a buon livello e anche alla pari per un lungo periodo anche con le grandi squadre Modena è un'altra di queste, sicuramente sarà una partita difficile perché loro ti mettono una grandissima pressione in battuta hanno delle individualità che possono risolvere la partita in un qualsiasi momento però noi dobbiamo star lì e cercare di rendergli la vita dura e poi cercare anche sicuramente di portare qualche punto a casa perché poi alla fine importanti sono sicuramente i punti i loro nomi sicuramente sono quelli importanti che piacciono alla gente però sicuramente noi cercheremo di garantire al pubblico grande spettacolo ogni domenica e quindi chiediamo a tutti di venire al Vallo Bianchini perché abbiamo bisogno di tutti Grazie